MIND Benvenuti a MIND Melania Innovation District e benvenuti soprattutto alla MIND Innovation Week. Andremo a parlare di sostenibilità e di innovazione, ovvero digitalizzazione nel sistema urbano. La tecnologia oggi è decisamente più sostenibile, non è solo la dimensione green, ma è anche per esempio il fatto di far ricadere verso la collettività il valore che la tecnologia produce. L'importante è lavorare sui comportamenti di ognuno di noi, è semplificazione, gratificazione e incentivazione. Con questi tre elementi crediamo che i nostri comportamenti ci facciano vivere davvero città più smart nel futuro. La Smart City è un concetto estremamente affascinante, è un concetto estremamente potente che andrà sviluppato nel futuro delle città per garantire un nuovo livello di condivisione della città e di utilizzo sostenibile della città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.